La Virtus Francavilla vuole fare spese in Puglia, esattamente nel Salento, da Lecce. L'ultima suggestione del club biancazzurro si chiama Sergio Maselli, classe 2001, che andrebbe a ricoprire la casella Under in mezzo al campo, completando il pacchetto centrale insieme a Carella e Ceciua. Maselli per la Virtus Francavilla non sarebbe soltanto una soluzione giovane, ma soprattutto di qualità. Sì, perché il giovane centrocampista con la maglia giallorossa si è distinto per la sua qualità, essendo una mezza la tuttofare, abile nell'essere l'anello di congiunzione tra difese e attacco. E al centro del progetto del Lecce lo ha ribadito anche il direttore dei Salentini, Pantaleo Corvino. Ma per il giovane classe 2001 non è ancora maturo il tempo per indossare la maglia giallorossa con continuità. Ecco perché i Salentini stanno cercando una soluzione che consenta al calciatore di giocare con continuità e riuscire ad emergere nel calcio dei grandi. Non sono Maselli però è questione di tempo per rivedere prezioso al Giovanni Paolo II. La mezzala risolverà il proprio contratto con il Napoli prima di accasarsi alla Virtus Francavilla e riabbracciare quindi mister Taurino. Per l'attacco infine sembrano sempre più insistenti le voci che vorrebbero Vasquez in partenza su di lui è piombato Lavellino che in settimana farà la sua proposta al club biancazzurro.